Le nuove avventure di Titi stanno per arrivare. Sembrava ormai aver sconfitto tutti i cattivi, ma non è neanche la metà. Non è arrivato veramente niente. Il punto zero sta portando nuovi cattivi nell'isola, che potrebbero essere pericolosi e molto potenti. Stanno arrivando nuovi cattivi dal punto zero! Come stanno arrivando nuovi cattivi dal punto zero? Non ci credo, devo avvertire tutta l'isola. No, sì, stanno arrivando dei cattivi. È per colpa di Nida, perché ha portato quei cattivi prima. E ora sta distruggendo tutta l'isola, il punto zero. Uno dei personaggi a arrivare è Nitroglicerina. È uno dei più potenti, perché può far esplodere l'isola con una sola bomba. Però se riesci a farle diventare alleata, può dare veramente una grande mano. È molto potente. E sa essere sia buona, sia cattiva. Il personaggio cattivo è Fade. È potentissimo. Uno degli esseri diventati più potenti. È cattivo. Però se si toglie la maschera è buono. Però, purtroppo, non avrà tutti i poteri che aveva prima. Però, comunque, un bel po' di mano lo potrebbe dare a Kit e compagno. Oltre altri buoni cattivi stanno arrivando. Lo scoprirete solo guardando la serie. Le avventure di Kit. Tra poco disponibili direttamente su YouTube. Dove... Dove...